Ben ritrovati su Alpaca Cani. Anche oggi vi risparmiamo i 30 km di pianura da Torino a Lanzo, quindi già solo per questo meritiamo un'iscrizione al volo. Stiamo andando al lago di Malciaussia. Prima volta per me, invece Ema e Simo l'hanno già fatta, mi hanno detto che è una salita facilissima. Andiamo dai, fa gravissimo. Oggi ne auguriamo anche la Caledonia 5 di Ema. Siamo a Viu e tra poco dovrebbe iniziare il tratto Perussellio e poi la salita vera e propria. Ciao. Ciao. Alla Giuliano? No. Ma ogni fatti. Ciao, mucche! Una volta superato Ussellio c'è un bel pezzo di pianura per poter rifiatare con la vista sulle montagne. Si è unito a noi un signore espertissimo del posto. Ciao! E ci sta raccontando metro per metro. Pausetta a Margone e tra poco inizia gli ultimi 5 km che sono quelli duri, duri, duri. Ciclismo gastronautico. Mi scuso con il montatore se appaio un capezzolini ma veramente troppo caldo. La strada, come vedete, è molto stretta, quindi quando ci sono auto e moto è abbastanza rischiosa. Ma il manto stradale è discreto. Salita bella durina. Non tanto per la costanza perché non è costante per niente. a strappi 16-17 e poi pezzi un po' più tranquilli, però... Il lago, la pianta sopra il lago, perché sotto lo vedevi il lago. Allora da Torino sono venuti fuori 72 km con 1.800, quindi verrà fuori più o meno 140 km. La Caledonia 5 ha fatto il suo primo giretto. Emanuele, sta bene? Non è vero. Una persona ce la siamo persa. Direi che da Malciaussi è tutto, sta squillando il telefono, quindi noi dobbiamo salutarvi. Torniamo verso Torino e vi lasciamo qualche immaginetta del lago, che è davvero bello, nonostante sia domenica, quindi pienissimo di gente. Un saluto da me, Emanuele e dalla mia cera.